Grazie, Presidente. Siamo molto contenti della citazione di questo emendamento, in quanto finalmente ascoltiamo l'Europa sulle cose che servono, che servono ai cittadini e che servono anche alle imprese italiane. Abbiamo un'eccellenza di imprese sulle fonti rinnovabili in Italia, che può trarre giovamento anche da queste iniziative, oltre ai nostri cittadini che possono finalmente vedere un risparmio sulle loro bollette grazie a un'idea innovativa di creazione dei nuovi edifici. Con queste norme vogliamo andare verso edifici che siano attivi, non più edifici che consumano, ma edifici che producono energia. E questo è un piccolo passo che finalmente riusciamo a fare in questo senso, insieme a molti altri, molti altri che abbiamo portato avanti con il Movimento 5 Stelle, anche con l'eco bonus, l'aumento al 65%. Quindi siamo molto contenti dell'accoglimento e speriamo che si vada in questa direzione sempre più decisi e sempre più velocemente, perché ce lo chiede l'Europa, come su molte altre cose. In questo caso, finalmente, ci chiede anche cose intelligenti e che servono ai cittadini. Grazie.